Ultimo aggiornamento di oggi con Muoversi in Toscana, ancora ben trovati da Mauro Ciutini. Un veicolo in avaria è segnalato in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Code in A11 la Firenze-Pisa tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione di Pisa. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, ci sono ancora code allo svincolo di lastra a signa in uscita provenendo da Firenze. Ricordo che l'entrata di Badesse verso Firenze è chiusa fino al 16 di giugno. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto dal Consorzio Lamma per domani. In mattinata nuvolosità variabile con possibilità di rovesci sui rilievi di nord-ovest, sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio. È tutto, muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio a domani! Grazie a tutti!